ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio dedicato agli effetti oggi ne approfondiamo alcuni specifici per la sfocatura radiale per cui iniziamo subito e ci portiamo su questa composizione dove ho inserito il mio logo con il livello selezionato vado su effetto nella categoria sfocatura e contrasto e clicco su quello chiamato sfocatura radiale immediatamente il livello avrà subito una particolare sfocatura e nella finestra di controllo saranno apparse le proprietà per modificarne il suo aspetto in più avremo un grafico quadrato con uno slider in basso che ha lo scopo di essere una sorta di anteprima di come l'effetto sfoca i pixel infatti se aumentiamo il parametro di quantità potremo dare più o meno sfocatura al nostro logo e una volta rilasciato il cursore sotto il grafico si sarà aggiornato e all'interno del quadrato avremo la rappresentazione grafica di come il logo è stato distorto e il fatto che vediamo dei cerchi e perché il tipo di sfocatura in uso è basata sulla rotazione e che possiamo cambiare nella modalità zoom anche qua come vediamo il grafico ci indica in che modo la sfocatura sta distorcendo l'immagine se portato a valore zero allora non avremo distorsioni e all'interno del quadrato non avremo nessuna informazione visiva ripristiniamolo e passiamo a centro che ci permette di spostare il suo cursore centrale e che in base alla sua posizione influenza la sfocatura per cui possiamo trascinarlo dal monitor tramite i parametri e contemporaneamente al movimento anche il grafico si aggiorna oppure possiamo cliccare dentro il quadrato tenere premuto e trascinarlo direttamente da qua portiamolo in modalità zoom con una quantità attorno ai 90 e se ingrandiamo l'immagine vediamo la qualità della sfocatura ecco che cambiando l'anti alias da basso ad alto possiamo migliorare il suo aspetto rendendolo meno pixelato infine abbiamo una proprietà di casualità che cambia lo schema con cui avviene la distorsione bene disattiviamolo e con il livello selezionato andiamo questa volta su effetto sfocatura e contrasto e clicco su cc radial blur dove appena inserito non avremo subito una sfocatura perché il parametro amount si trova con valori predefiniti a zero ma se lo aumentiamo allora il logo subirà una distorsione sulla rotazione in questo caso il tipo di sfocatura in uso è quella chiamata scratch che lo ruota in entrambe le direzioni ma possiamo cambiarlo con rotate che lo ruota in una sola direzione o da una parte o dall'altra dipende se manteniamo i valori della mount in positivo o negativo e ancora una modalità rotate fading che aggiunge una sfumatura che riduce però il numero dei pixel visibili sui bordi poi troviamo una sezione con opzioni specifiche per lo zoom la prima straight zoom genera una sfocatura frontale che si propaga verso la camera che lo inquadra poi abbiamo una modalità fading zoom che sfuma la sfocatura e rende i pixel più esterni trasparenti e infine il center head zoom che sfoca in egal misura verso l'esterno di fronte alla camera e dietro il logo come una scia anche qua troviamo il punto centrale per posizionare il cursore che influenza la sfocatura spingendola dalla parte opposta e infine un parametro per gestire la qualità dell'immagine che si trova al 50 per cento se portato a zero vedremo il passaggio della sfocatura attraverso riquadri geometrici mentre se portato al 100 per cento avremo la loro fusione per un'immagine più nitida e definita disattiviamo anche questo effetto e vediamo quello chiamato cc radial fast blur che come quello appena visto è una versione semplificata di sfocatura radiale in modalità zoom e che contiene solo tre parametri il primo è il punto centrale che abbiamo visto influenza la sfocatura in base a dove si trova il secondo mount gestisce la quantità di sfocatura mentre il terzo chiamato zoom ci dà tre opzioni la standard che sfoca i pixel chiari e scuri allo stesso modo in modalità brightest sfoca solo i pixel luminosi mentre darkest solo quelli scuri ricordate che se la sfocatura viene limitata dalla dimensione del logo che è più piccolo della composizione basterà aggiungere l'effetto estendi limiti posizionarlo sopra l'effetto e aumentarne il valore a questo punto se portiamo il punto centrale anche al di fuori della dimensione della composizione potremmo generare sfocature molto estese dei pixel che vanno a generare fasci di luci molto interessanti ecco perché vedremo qualche esempio su come creare anche artificialmente quella che in gergo viene definita luce volumetrica che si usa molto nel cinema o in fotografia per creare atmosfere tridimensionali quindi ci portiamo su questa composizione dove ho questo video in cui la camera che inquadra è ferma per cui questo metodo può essere usato anche con immagini statiche come fotografie come suggerimento per valorizzare di più i fasci di luce cercate di usare immagini non troppo chiare e ben contrastate perché questa tecnica viene distorcendo e sfocando i pixel bianchi detto questo se mandiamo in riproduzione gli unici fasci di luce sono quelli generati dal sole fuori dalla finestra il nostro obiettivo è creare dei fasci di luce più lunghi che entrano da tutte le finestre e come prima cosa dobbiamo creare una sorta di mascherino bianco e nero dove questa volta userò un metodo diverso dall'utilizzo solito del colorama e dell'effetto livelli quindi precomponiamo il video e attiviamo la seconda casella per spostare gli attributi e diamo ok adesso aggiungiamo un livello di regolazione che rinomino luce volumetrica e poi tramite fx console richiamo l'effetto tinta per rendere il tutto in bianco e nero poi ancora aggiungo l'effetto curve dove prendo il cursore delle ombre rgb e le trascino a destra per scurirle e lasciare visibili così solo le parti bianche adesso aggiungiamo l'effetto CC radial fast blur e porto la sua quantità attorno ai 96 adesso dai suoi metodi di diffusione lo porto in modalità scolora che sappiamo elimina tutti i pixel neri se ora mandiamo in riproduzione vedremo come la sfocatura interagisce solo sui pixel bianchi che si fondano tridimensionalmente alla scena vedete come il movimento della ragazza influenza questi fasci di luce e a questo punto con il cursore centrale orientiamo meglio questi raggi quindi lo prendo e lo porto leggermente sopra al sole e magari un po più a destra per terminare ci basterà far corrispondere un po meglio i colori quindi aggiungiamo un altro effetto curve dove per ottenere qualcosa vicino a un giallo abbasso di poco la curva del blu attiviamo disattiviamo l'effetto per vedere la differenza dopodiché con la curva rgb posso ridurre leggermente i fasci di luce aumentando un po le ombre attiviamo disattiviamo il livello di regolazione e avremo creato il nostro bel effetto bene se invece abbiamo una scena dove la telecamera è in movimento allora dovremo tracciare l'ambiente vediamo come ci portiamo su questa clip dove abbiamo sia il movimento della camera che della ragazza con il livello selezionato vado sul pannello del tracciatore e clicco traccia videocamera inizierà l'elaborazione dei dati per cui una volta risolto la camera e terminato il processo possiamo vedere i punti traccia 3d sullo schermo e noi andiamo a prendere quelli presenti sulla finestra e trovato il punto più adatto facciamo tasto destro crea null e videocamera adesso che abbiamo il movimento della camera tracciato e il null che specifica un punto fisso nella scena lo rinominiamo controllo cursore a questo punto stessa procedura vista prima inseriamo un livello di regolazione su cui applico l'effetto tinta poi aggiungo le curve dove scurisco le ombre per ottenere un mascherino bianco e nero e casomai non sia proprio bianco ma grigio sposto un po il cursore in alto verso le luci a questo punto aggiungo l'effetto cc radial fast blur e lo porto con una mount attorno ai 96 e dai suoi metodi di diffusione lo porto in modalità scolora ora che abbiamo creato i raggi sfocati li colleghiamo alla posizione del null quindi alt più click sull'orologio del center per aprire l'editor di espressione dove dalla timeline prendo il suo pick whip e lo collego al null dove aggiungo un'estensione all'espressione appena creata scrivendo punto to comp con la c grande aperta parentesi tonda aperta parentesi quadra 0,0,0 che sono i riferimenti degli assi x y e z chiusa parentesi quadra chiusa parentesi tonda punto e virgola clicchiamo fuori e ora potremo usare il nulla tracciato alla scena per posizionare il punto centrale e orientare così i raggi correggiamo anche qui un po la colorazione aggiungendo sul livello di regolazione un altro effetto curve dove alzo un po il canale del rosso poi seleziono il blu e lo abbasso leggermente ora imposto l'rgb e se voglio abbassare la luminosità abbasso un po il cursore in alto portandolo verso le ombre e per ammorbidire fasci riducendoli leggermente possiamo interagire aumentando un po le ombre mandiamo in riproduzione e vediamo il prima e il dopo davvero molto versatile questa tecnica dove potrebbe capitare che però il tracciamento non vada sempre a buon fine qualora ci sia un soggetto troppo in movimento nella scena per ovviare a questo eventuale problema basterà creare una maschera grossolana attorno al soggetto tracciarla manualmente dopodiché sottrarla a questo punto lanciare il tracciamento videocamera 3d che non sarà disturbato da movimenti di soggetti in primo piano ma facciamo un ultimo esempio ovvero creare queste luci volumetriche senza reali fonti di luce come le finestre viste fino ad ora per cui ci portiamo su questa composizione dove abbiamo questa immagine se analizziamo le luci vedremo che sono piuttosto calde e dall'alto puntano verso il basso in modo leggermente inclinato ora per creare luci volumetriche senza la presenza di pixel bianchi da poter sfocare creo un livello forma magari uso direttamente un ellisse di colore bianco dopodiché la precompongo e gli vado ad aggiungere l'effetto CC radial fast blur porto la mount attorno ai 97 sposto il punto centrale in alto fuori dalla composizione e sposto anche tutto il livello posizionando la fonte di luce nell'angolo in alto a sinistra per fare in modo da avere questo fascio obliquo che illumina il fianco della ragazza ora però abbiamo una fonte di luce simile a un faretto puntato e non a fasci di luce ben distinti per cui entro nella precomposizione e aggiungo un tinta unita su cui applico un disturbo frattale lo porto in modalità dinamico aumento il contrasto attorno ai 320 cambio anche la scala attorno ai 32 e animo il movimento di questo pattern facendo alt più clic sull'orologio di evoluzione e digito l'espressione time per 50 a questo punto sposto il livello tinta unita sotto il livello forma e in corrispondenza dei mascherini traccia imposto la modalità alfa torniamo sulla composizione principale e avremo ottenuto i nostri fasci di luce artificiali come ultimo step cambiamo il colore aggiungendo un effetto tinta dove campiono il bianco con un colore simile alla luce che vediamo sulla pelle del soggetto dopodiché lo fondo in maniera più morbida impostando un 50% sulla quantità da tingere mandiamo in riproduzione e avremo la nostra luce volumetrica animata considerate che esistono davvero tanti modi per ottenere questi risultati ma con questi tre metodi troverete sicuramente la soluzione adatta al tipo di lavoro che dovete fare bene ragazzi anche per questa lezione è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao